Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata. Questa puntata è dedicata espressamente a un evento sportivo, di arte, di cultura e a questo punto abbiamo ospite Francesco Caprini e parliamo di sport e cultura perché in fondo bisogna essere lo sport e la cultura uguali per tutti, indistintamente dalle proprie caratteristiche. A questo punto a Caprini facciamo la domanda più semplice, ci puoi descrivere l'evento e come nasce quest'idea di questo evento? L'evento si svolge a Milano, si chiama Rassegna disabilità dei talenti invisibili e coinvolge gente del mondo dello spettacolo, dello sport e della letteratura e poesia e anche cinema. E questa iniziativa che si fa a Milano il 21-22 di gennaio di questo mese al Circolo Culturale Ventivoglio, che è di proprietà dell'Unione Cecchi, sezione milanese, nasce in realtà nel 2019. Nasce in collaborazione con altre persone che come me vengono nel mondo dello spettacolo. Ci siamo incontrate, abbiamo parlato di tante cose e all'interno di questo gruppo di lavoro c'è un ragazzo con della disabilità, che gli è stata causata da un incidente in un tuffo al mare ed è rimasto tetraplegico. Il ragazzo è un giornalista, è una persona molto sensibile, ha delle capacità letterarie notevoli e a me avevano l'idea di proporgli di fare durante una mia rassegna musicale. Io organizzo prevalentemente concerti rock, eventi musicali e gli ho proposto di tenere da me una serata in un concerto dove c'era Omar Pedrini, leader di Timoria, oggi un solista bravissimo, conosciuto da tantissimi giovani, di proporgli fare un intervento, una sorta di ridin di poesie, che negli anni 70-80 era molto usuale nei concerti soprattutto degli artisti inglesi e americani. lui era un po' attituante e alla fine invece ha fatto questa esperienza che è risultata molto positiva sia a livello terapeuta che a livello emozionale e da lì abbiamo detto la prossima volta portiamo una testimonianza, una testimonianza di chi magari scrive un libro oppure ha realizzato un documentario o ad esempio invece fa anche dello sport, visto che tantissimi ragazzi e ragazze partecipano alle Paralimpiche portando a casa anche dei risultati straordinari e eccezionali. Quindi l'idea era di proporre a un pubblico a digiuno di queste realtà, a gente che comunque vive lo sport, la cultura, l'arte, sempre in dimensioni diciamo tranquillizzanti, di proporre all'interno di queste mostre, di questi concerti, di questi eventi una testimonianza e abbiamo visto che il risultato è stato molto positivo con gente che si è avvicinata, ha voluto capire, ha voluto maggiormente essere informata su tutto quanto e sicurati che siamo nel 2019, nel 2012 alcuni dei nostri diciamo sportivi paralimpici avevano vinto pure delle medaglie a Rio de Janeiro e questi ragazzotti non sapevano manco che ci fosse una paralimpica e quant'altro. Certamente la disabilità è un effetto disturbante, però la nostra scommessa era creare invece una rete, una relazione dove attraverso la condivisione, la solidarietà e la partecipazione agli eventi questa barriera forse spezzata. Naturalmente va dato atto al fatto che noi nelle nostre proposte cerchiamo di valorizzare l'artista che ha dei contenuti, che ha delle proposte importanti. Non vogliamo giocare sulla disabilità, non vogliamo creare una situazione da circo per essere pesanti, ma vogliamo dare l'opportunità a queste persone di talenti e che noi chiamiamo appunto talenti invisibili, l'opportunità di far crescere la loro attività inserendoli in contesti credibili, forti, con persone che sono altrettante credibili e forti. Nasce così la storia. Abbiamo avuto anche parecchie problematiche, perché c'è stata un po' la corsa, la partecipazione, però in realtà erano anche persone, sì con disabilità, però avevano anche delle carenze fortissime dal punto di vista culturale e quindi non volevamo fare un'attività che andasse a speculare sulla disabilità, ma un'attività, una ricerca sulle persone che per noi sono completamente normali, perché fanno bene quello che devono fare. Ne abbiamo parlato con l'Unione Cecche di Milano, col presidente dell'Unione Cecche di Milano, il dottor Piovani, e lui era d'accordo, così come era d'accordo un gruppo molto importante che si muove nell'ambito web, che è il gruppo degli invisibili, e abbiamo avuto un po' la loro autorizzazione, diciamo, a procedere. Beh, ho capito che in fondo effettivamente non trasformare un evento, il libro cuore, o spettualizzare la disabilità, ma dimostrare appunto invisibili le culture, la cultura, la capacità artistica, la capacità relazionale, perché a volte pensano che il disabile non ha capacità, in realtà ha capacità, tanta capacità, e quindi un obiettivo che è importante, rendere visibile ciò che è invisibile per molta della gente. E a questo punto abbiamo visto un programma molto articolato, molto interessante. A questo punto vogliamo andare a descrivere tutto questo programma? Sì, il programma, come ti dicevo prima, prevede interventi musicali, interventi di letteratura, testimonianze sportive ed incontri. Ad esempio, per quanto riguarda l'aspetto musicale, abbiamo un artista, un artista sardo, molto conosciuto, è un non vedente, è Giacomo Deiana, suona la chitarra straordinariamente, e oltretutto è pure un poeta. Ed è, tra l'altro, la cosa che mi ha impressionato di Giacomo, è che è un personaggio combattivo, positivo, propositivo, è un personaggio militante, se vuoi, della disabilità. È fortissimo perché viene a Milano, prende l'aereo, gira da solo, fa delle cose straordinarie e soprattutto è un talento artistico. Se ti capita, se capita ai nostri ascoltatori, di andare a vedere sulla sua pagina, lui si chiama Giacomo Deiana e sentiranno questa proposta musicale, un chitarista escezionale che lui fa e rimarranno molto sorpresi. Dopodiché, seguirà all'intervento di Giacomo, abbiamo un'antistominanza molto importante di Ivan Cottini. Ivan è conosciuto al mondo per essere stato il ballerino di Amici. Ha avuto un successo strepitoso negli anni 13-14, tra l'altro poi lo scorso anno è stato, no nel 2022, nel 2021 scusami, è stato ospite da Amadeus sul palco dell'Ariston, è il famoso ballerino che danza con la sua carrozzella. Niente di patetico, anzi tutto molto emozionante, molto forte, sia dal punto di vista visivo del gusto teatrale, sia della composizione anche musicale. Ivan è con noi già da un paio d'anni, ed è piacere dirlo come testimonial, perché riesce a trasmettere grande energia e soprattutto lui, dopo l'esperienza SLA, che lo ha allontanato dal mondo dello spettacolo, quello mainstream, si è attivato con la sua compagna a realizzare delle scuole di danza con i partecipanti, in modo tale da poter avere anche degli iscritti con delle disabilità completamente diverse, dai non vedenti ad esempio, oppure a delle persone che hanno delle disabilità dovute a degli incidenti come i tetraplegici. Io l'ho visto recentemente qua in Lombardia, a Legnano, in un balletto che si è tenuto prima di Natale, e devo dire che lui ha un seguito strepitoso. Quindi Ivan Cottini è presente raccontando la sua esperienza e cercando di dare veramente coraggio e impulso positivo a tutti quanti lo seguono. Poi c'è l'intervento di un artista, in questo caso uno scrittore, lui si chiama Carlo Battaglini, è un non vedente di Milano, e ha vinto diversi concorsi, tra cui il concorso alla memoria di Andrea Camilleri, che si tiene a Milano sempre nell'ambito del circolo culturale Bentivoglio, e lui sarà presente con un suo manoscritto, è più un racconto in realtà, un racconto di dieci minuti, sulla siccità. Perché il nostro Carletto, come lo chiamo io, Battaglini, ti racconta una storia sulla siccità? Perché Carlo, prima dell'incidente che lo ha portato alla siccità, se così vogliamo, è stato un geologo, e quindi conosce tutto della materia, dalle rocce all'acqua, alla terra, al carbone, è un grandissimo esperto, è stato uno dei più importanti geologi italiani, addirittura. E quindi lui ha scritto questo racconto, dedicato alla siccità, perché sarà proprio l'acqua, nel futuro, ad essere l'artefice della nostra vita. Quindi è un racconto fascinoso, intrigante, che ci fa vedere come se noi non facessimo delle cose positive in relazione al nostro universo, avremmo senz'altro i grossi problemi con l'acqua, e quindi con la vita. Quindi abbiamo Carlo Battaglini, successivamente, la prima parte, che è quella del 21, si chiuderà con un concerto di un duo canoro, loro sono i Tour Chakan, e sono in realtà una copia artistica di Treviso, che propone una proposta musicale con alcuni pezzi fatti da loro, e altri tratti da vecchie cover di artisti rock internazionali, che vanno dai Green Day, dai Rasmus, e da Lita Ford. Tra l'altro loro a me piacciono moltissimo, perché si trasformano anche in artisti hard, metal, rock. Sono un duo, un compagno, una compagna, dove appunto si cimentano con queste canzoni che hanno influenze sia medievali e gotiche. Quindi questa prima parte, questa prima domenica, mi sembra una cosa molto positiva, proporre tre aspetti diversi tra loro, che sono appunto la musica, che è appunto la parte letteraria, e poi una musica desueta, per quanto riguarda il non vedente, perché a noi ci hanno sempre fatto vedere il non vedente, che è o un pianista classico, o deve essere per soltanto un lirico. Invece trovare dei non vedenti, che sono rocchettari, borchiati, marchiati, è bello, è bello, perché c'è una felicità interiore che loro fanno scaturire quando si cimentano in queste attività. Niente. Tra l'altro va detto che il programma, uno lo può leggere, spulciare e soprattutto condividere con gli artisti, perché ci sono i loro link, i loro punti di riferimento, sulla pagina www.milaniumusica.it. Su quella pagina lì c'è la presentazione fatta dall'assessore all'autonomia e cultura della Regione Lombardia, e poi ci sono le schede e le foto degli artisti presenti all'evento. Altra cosa importante, invece iniziamo con domenica 22 gennaio, sempre alle ore 15, il programma è fatto di sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, questo per permettere anche a tutti quanti di poter partecipare senza fare orari notturni e quant'altro. Allora, la prima parte della domenica è alle ore 15 ed è con il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti di Milano. E sono presenti Francesco Cusati, che è il presidente del gruppo sportivo non vedenti, poi c'è Lorenzo Radice, che è il presidente dell'Accademia Scherma Milano, e Pietro Palumbo, che è invece un socio del circolo del gruppo non vedenti. Quindi queste tre persone saranno presenti alla rotonda. Per parlare dell'importanza dell'attività motoria, in questo caso della scherma, disciplina che si sta sempre più affermando nel panorama sport e paralimpico, è previsto anche un collegamento a distanza con la nuotatrice paralimpica Martina Rabolini, che ha partecipato, come ti dicevo prima, alla Pari Olimpia di Virio de Janeiro e di Tokyo. Il gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano si occupa, da oltre 40 anni, pensa, di diffondere e promuovere le varie discipline praticabili delle persone con disabilità visiva, attraverso l'organizzazione di corsi specifici di manifestazioni e di gare. Numerose sono le discipline promosse, ad esempio la ginnastica, il nuoto, il pilates, la gag, si chiama G-A-G-G-A-G-G-A-G, che sono gambi, addominali e glutei, poi c'è lo showdown, tiro con l'arco, la scherma, la rampicata sportiva e l'attetica leggera. Ecco, queste tre persone, con il collegamento con Martina, ci spiegheranno quelle che sono le prospettive future dell'associazione, del gruppo sportivo, che come ti dicevo inizialmente, sta ottenendo proprio grandi risultati nell'area milanese, perché i successi avuti anche durante le paralimpiche sono stati notevoli e quindi la gente ha preso più coraggio. Mentre invece, finito l'incontro con il gruppo sportivo di Milano, noi diamo spazio a Giacomo Camuri. Giacomo Camuri è un personaggio mitico qua in Lombardia. è un signore che ha fondato un laboratorio, si chiama il laboratorio degli archetipi, che opera in quelli di Lodi. Diamo l'opportunità a Giacomo di venire a raccontarci quelle che sono state le sue esperienze, perché ha fatto un lavoro incredibile con personalità disabili della sua città, tant'è che la regione Lombardia gli ha dato anche dei riconoscimenti. Infatti Giacomo è il presidente dell'Associazione Lavoratorio degli Archetipi, che è un centro di ricerca interculturale e di sperimentazione educativa. L'associazione promuove nel territorio un'intensa attività laboratoriale nell'ambito dell'animazione teatrale e della produzione drammaturgica rivolta al mondo della scuola, al mondo della disabilità e del disagio sociale. L'associazione è l'ideale, ed attrice scusami, anche di importanti appuntamenti pubblici, come la rassegna storica del teatro delle scuole nell'Odigiano, la veglia di Santa Lucia, che è una tradizione importantissima. Tu che sei marchigiano, non sai cos'è Santa Lucia, lo dico io. in Lombardia, in Veneto e anche in Emilia Romagna, quando avevamo bambini noi, ma anche adesso, perché la tradizione resiste ed è molto forte, i regali non li portava il Babbo Natale. Il Babbo Natale è una scoperta americana e ci arriva dalla globalizzazione. Santa Lucia noi bambini, i regali ce li portava a Santa Lucia, che è il 12 di dicembre. Quindi nelle scuole e a casa, noi aspettavamo con ansia questa santa che era non vedente e che ci portava, con i suoi capelli grigi, le sue mani grigie, di cenere, ci portava i doni. Quindi la festa di San Lucia l'odio, la festa è importante perché tutti i bambini si trovano in strada e Santa Lucia porta a loro un po' di calore, un po' di gioia, un po' di dolce, queste cose che fanno tutti i bambini. E in Lombardia, in Veneto e in Emilia Romagna è rimasta forte questa tradizione e non c'è Babbo Natale che tenga. E viene preparata con, come dire, con dovizie di particolari. per cui il buon Giacomo Camori e la sua associazione Lavoratori e Archetipi si sono inventati a Lodi questa festa ed è una festa che è molto seguita. Quindi hanno iniziato con la Veglia di Santa Lucia, poi da lì sono arrivati i carnevali, le feste di primavera e gli spettacoli estivi per Lodi al sole. Quindi l'associazione veramente sviluppa con persone di grande disabilità dei progetti di particolare rilevanza per l'inclusione e per la valorizzazione di persone straniere. Giacomo è un... come posso dire? È una persona che ha 74 anni e io potrei dire che è un santo perché ha veramente una delicatezza, una disponibilità, una sensibilità che non è comune. Ed altronde chi fa questo lavoro di volontariato se non ha questo spirito non riesce a trarre intorno a sé grande socialità, grande dinamismo. Perché quando parli con Giacomo c'è proprio la grande passione che lui ha per le persone più deboli. È una coscienza che lui ha che molti non riescono a vedere. Ebbene, detto questo, grazie a Giacomo siamo riusciti a contattare il gruppo di operatori che ruota intorno a lui che sono la Damanera. La Damanera presenta un cortometraggio e quindi parliamo anche di cinema oltre che di letteratura e di musica. Ci presenta un cortometraggio che è un po' l'esperienza di un teatro condotta con la partecipazione di giovani liceali del laboratorio di cinematografia che è quello praticamente che nasce all'interno del suo gruppo. E soprattutto ci rappresenta questa tematica nel periodo peggiore che abbiamo vissuto negli ultimi tre anni e cioè il periodo pandemico e quindi la necessità di dare un po' un senso all'isolamento imposto dai protocolli sanitari in attesa poi di riprendere il percorso con nuove compagini e questo cortometraggio c'è in due versioni di 20 minuti e 30 minuti ha vinto anche diversi premi al Festival del Cinema e la regia e la consulenza è di Andrea Utera che è un esperto di teatro e danza e un videomaker del laboratorio degli architepi il laboratorio che ha fondato il nostro amatissimo Giacomo ecco questo è sempre girato nell'area lodigiana nell'area lodigiana in questo caso a San Colombano all'Ambro e hanno partecipato veramente tantissimi personaggi e soprattutto per fare interviste e eventi loro si sono affidati alla ricerca di tantissimi autori milanesi tra cui il grande Cervanesco che era uno scrittore milanese morto negli anni 70 che è stato forse il primo giallista italiano a scrivere appunto di delitti di gialli di storie e il nostro appunto Giacomo Camuri è riuscito a mettere insieme tra gente di teatro gente di cinema e gente di letteratura questa team chiamiamo così insieme hanno realizzato il cortometraggio e quindi lo presenteranno nella versione però di 20 minuti non quella di mezz'ora poi c'è un ospite un ospite graditissimo che è sempre con noi quando c'è da fare qualcosa di importante lui c'è c'è col cuore c'è con l'anima c'è con la testa c'è fisicamente ed è Omar Pedrini Omar Pedrini è conosciuto dei rocchettari italiani è stato per anni il leader di Timoria il gruppo di Francesco Renga e Omar ogni anno viene ci racconta un po' di sue storie porta un po' di gioia di buona musica si intrattiene con le persone ed è importante perché anche grazie a lui e anche grazie a Ivan Cottini che sono figure anche televisive noi abbiamo l'opportunità di dare maggiore visibilità al nostro festival alla nostra rassegna ripeto mi hai raccontato perché leggere un programma con i nomi è una cosa leggere e ascoltare ciò le caratteristiche di tutti gli ospiti perché tu mi hai raccontato tutte le loro caratteristiche tutte le loro particolarità che poi molto spesso chi va a leggere un programma legge soltanto il nome ma dietro a quel nome c'è un grande c'è un grande lavoro perché ogni singola persona ha un mondo in sé che poi svolge perché è detto persona che raccoglie ha creato fondazioni che ha creato associazioni che porta avanti lo sviluppo per creare la possibilità ai giovani e la disabilità andare avanti e crescere però a questo punto io ti chiederei la prima sensazione la prima immagine che ti ricordi quando per la prima volta hai presentato questa idea ma soprattutto l'hai messa in pratica la risposta del pubblico davanti che in realtà poi si è vista davanti un racconto diverso qual è stata la tua sensazione che hai provato che poi nel tempo è andata a crescere sicuramente quella sensazione quella emozione sì è un'emozione è un'emozione molto forte perché io quello che ho provato e che uso spesso è stata l'emozione di avere avvertito l'assenza di disabilità io quando parlo con per esempio con Carlo che è il Battaglini che è uno scrittore o parlo con altri artisti che sono stati noi negli anni precedenti mi accordo che loro mi dicono ma tu sai che noi siamo disabili cioè io non mi accorgo più perché la mia attenzione è sulla qualità artistica che loro propongono quindi per me non esiste la disabilità se tu quello che fai lo fai bene diversamente ci sono dei disabili che propongono delle cose anche divertenti ma avverti subito che non c'è originalità non c'è autenticità ma c'è solamente la voglia di fare business e quindi io mi distacco subito da questo atteggiamento qua in voce nel programma che noi siamo andati a fare anche quest'anno abbiamo dato priorità assoluta alla sensibilità del disabile alla sua capacità creativa cioè sarebbe facile portare lì vocelli e avere 200 milioni di persone però noi siamo fuori dal mainstream noi vogliamo lavorare con le associazioni del territorio che giorno per giorno hanno a che fare con persone che hanno caratteristiche di disabilità molto forti e che però grazie a loro riescono a ad avere risultati importanti di socialità di condivisibilità del sociale ecco quindi la prima volta che ti ricordi che te l'ho detto con un nostro amico abbiamo fatto questo esperimento noi abbiamo trovato una risposta del pubblico molto positiva e che ci ha spronato ad andare avanti ad allargare la dimensione dell'evento però questo va detto che noi che organizziamo l'evento e i nostri collaboratori comunque provengono sempre anche da situazioni con alle spalle degli studi importanti cioè frequentiamo gente di teatro quindi la percentuale di tolleranza la percentuale di condivisione la percentuale anche politico sociale nei confronti del talento disabile è molto forte diversamente io abito in un paese dove vedo ancora per strada delle persone che portano i loro figli magari disabili dal medico o quant'altro non hanno certe attenzioni cioè piove e loro magari non coprono nemmeno con l'ombrello cioè quindi io penso che il lavoro dobbiamo fare noi è ancora molto più importante e deve costruire è qua che noi chiediamo alle istituzioni chiediamo anche agli organi di comunicazione di dare ampio spazio a queste realtà perché queste realtà possono trasmettere alle persone che non hanno una grande coscienza ma che vedono nel figlio disabile una sfiga una sfortuna e invece è quella di trasmettere loro la possibilità di capire che non è una sfiga non è una sfortuna è un fatto importante perché questi ragazzi possono presentare certe scuole perché oggi c'è l'opportunità di relazionarsi e non vivere nella propria cascina chiusa nel proprio mondo e invece purtroppo quello che io trovo nel mio girovagare per la Lombardia è che quando entro in caso di certe persone che hanno delle disabilità c'è questo atteggiamento che la malattia è cattiva la malattia è brutta è un danno invece di pensarlo al contrario che si può costruire cose importanti ti faccio un esempio a me mi ha chiamato tempo fa un artista che mi ha chiesto di poter partecipare alla rassegna e allora gli ho detto di mandarmi del materiale e così è stato ho ascoltato il materiale è molto importante lo trovo molto importante quindi chiedo un apportamento e lui mi dice sai io sono in Duomo c'ho un edicolo all'induomo a Milano sto parlando vieni lì e parliamo insieme io vado lì cerco l'edicola e non la trovo e allora perché per me l'edicola era quello dei giornali no quello della stampa e invece era un casotto piccolino dove lui vendeva i biglietti alla lotteria a un certo punto sento una campana vedo quello che aveva togliato puoi vedere chi è lì ora vado lì e dico ciao io sono Caprinzi e tu sì sono io e cosa fa e lui fa io sono qua a vendere i biglietti dalla lotteria ho detto ma scusami ma uno che ha una voce come bella come te perché non va all'unione ciechi si informa progredisce si interforma e fa e ma sai non ho soldi e gli ho detto sì però quando ti puoi che fai sto lavoro è 30 anni perché quanto deve 40-50 anni mi ha detto sono sempre qua in Duomo ma no dai devi ribellare a questa cosa qua su allora siamo andati io all'unione ciechi ho parlato con il presidente che è una persona squisita deliziosa insomma questo ragazzo che ha 45 anni adesso sta facendo dei corsi e ti devo dire che ha dei progressi straordinari ecco ci sono delle situazioni magari anche all'interno del mondo della disabilità che non si preoccupano minimamente di andare di andare a vedere che ci sono delle opportunità che possono essere utilizzate per una maggiore emancipazione questo è un po' succede insomma no così come in tutte le buone famiglie c'è ci sono dei disagi per mancanza di comunicazione quindi questo mi aveva molto colpito questa situazione qua sì noi guarda noi ripetiamo sempre non chiudetevi dentro casa ma aprite la finestra aprite la porta e uscite perché il ragazzo i ragazzi i ragazzi i giovani hanno bisogno di stare insieme ai giovani per poter crescere per poter migliorare per poter studiare per poter lavorare hanno bisogno di spazio quindi per poter giocare a calcio per poter giocare a goalball qualsiasi sport qualsiasi attività suonare devono uscire di casa perché non possiamo tenerli chiusi dentro casa che è la cosa peggiore ghettizzare il ragazzo a questo punto noi intanto ti ringraziamo per essere stato ospite perché ci hai raccontato tutto l'evento effettivamente ci hai raccontato tutto l'evento che si svolgerà per questo ti ringraziamo a questo punto ci mancano i tuoi saluti e l'invito ad partecipare a questa manifestazione beh devono partecipare assolutamente quelli che ascoltano la radio e suonare la nostra zona anche perché tutto l'evento è gratuito quindi non è che si paga un euro tre euro no è gratuito perché la collaborazione con gli artisti è stata una collaborazione trasparente nessuno prende chissà cosa e quindi abbiamo potuto realizzare questa iniziativa in un modo molto agile e la partecipazione del tour gratuita che tiene a Milano il 21 e 22 di gennaio dalle ore 15 alle ore 18 al centro culturale Paolo Bentivoglio in via Bellezza via Bellezza Milano è zona Parco Ravizza vuol dire Università Bocconi e per maggiori approfondimenti io consiglierei anche andare a vedere la nostra pagina che è www.milanoinmusica.it a questo punto io saluto tutti quanti saluto te in modo particolare che hai avuto la pazienza di ascoltarmi ho visto che sei stato lì con gli occhi sgranati e direi anche molto sorpreso e questo mi ha fatto molto piacere ma soprattutto mi sono piaciute le tue parole che hai detto anche recentemente che condivido pienamente sulla questione che riguarda la partecipazione e la condivisione per cui queste famiglie devono avere maggiore come dire coraggio do it dicono gli inglesi fallo stare in casa non cambia nulla uscendo qualcosa può cambiare Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro in cui la partecipazione di Tragge Grazie a tutti.